Musica Oh Mario, siamo di nuovo degli HP Fantasmi Oh si, che bello, che bello Chissà cosa vivremo ora già Oh si, spero che andremo alla caccia dei mostri E guarda là sopra Ecco il simbolo, è sempre lo stesso, non è cambiato nulla Oh si, meno male, meno male Proprio come prima, non abbiamo perso nulla Allora entriamo, dai, e guardiamo cosa c'è ancora dei nostri HP Fantasmi Ciao gente, siamo Mario e Iona, siamo tornati, dove siete? Oh ciao Giovanotti, eccovi qui, molto bello vedervi Ehi ciao Giovanotti, ma che bello che siete di nuovo qui, che state di nuovo bene Sono molto contenti, come è stato all'ospedale, tutto bene? All'ospedale? Sì sì, tutto bene Come sapete abbiamo avuto, Maria aveva il letto piccolo e io avevo quello enorme Oh, ma meno male, siamo di nuovo qui Oh, molto bene ragazzi, di sicuro volete lavorare, vero? A lei, sai se abbiamo qualcosa per loro? Oh, fammi pensare un attimo Allora, qui c'è già pulito tutto Penso che oggi qualcuno deve sistemare il computer e guardare cosa c'è disegnato sulla mappa Oh sì, buona idea, poi possiamo vederle cosa è cambiato Oh, wow, è cambiato un sacco qua in ufficio Guarda, là c'è una pianta e un sofà Oh, quello penso sia vecchio, vero? Mmm, penso di sì Mmm, sì, ok, non si è cambiato così tanto Ma abbiamo una nuova pianta, aha, questo è nuovo Oh, 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 guarda, guarda, guarda sul monitor Penso, ho appena visto velocemente e penso che là, là dietro, là, là, ci sia un fantasma Ma, ma non si può riconoscere chi è? Buonasera, dottore Eiffel Molto bello, abbiamo bisogno di tornare nel mondo degli umani Ah, dracola, hai proprio ragione Dobbiamo assolutamente tornare dai nostri umani e rovinare i piani e gli acchiappofantasmi Ah, sì, meno male che conosco qualcuno che ci può aiutare E chi è? Lo conosco questo? No, non la conosce, ma non si preoccupi Ah, sono proprio curioso, dracola Ehi, Marvin, tutto bene da te? Oh, devo dire che è davvero comodo questo divano Sono i vantaggi di avere la gamba rotta Ah, sì, sì, sì Però tu sei fortunato, eh? Io invece devo fare tutto il lavoro Ma meno male che non c'è molto da fare, insomma Questo mostro è già andato di nuovo E ora è tutto nuovo così, calmo Eh, eh, ragazzi, abbiamo finito con l'osservazione Possiamo fare la pausa? Vorremmo andare a mangiare qualcosa Dovo portarvi qualcosa? Ehi, Mario e Jonas Meno male che ce lo chiedete Per me non avete bisogno di portare nulla No, no, grazie, ho già mangiato Ok, allora andiamo E ci prendiamo qualcosa Ah, sì, andiamo a prendere la pizza Oh, sì, buona idea Oh, penso che non mangeremo oggi Oh, ma cos'è quello? Eh, non l'avevo mai visto Ma cos'è? Una gru Ma no, non lo so Ma non ha motore No, sembra strano Oh, è così blu Ma cosa sono quelli? No, non lo so Altrimenti ho avuto paura Ma ma Non lo so Ah, ma chi c'è qui? Due bambini Oh, oh, oh Attenzione, attenzione Cerchiamo i Ghostbusters Oh, oh Ci sono due bambini Una una t-shirt rossa E un'altra Che sono da prendere Da prendere Perché sono veloci Oh, oh, Jonas Penso che ci vogliano Oh, oh, sì E cosa facciamo? Eh, guarda Oh Penso che ho finito qui la nostra vita Ehi, voi due Siete Mario e Jonas Eh, conosco i nostri nomi E cosa diciamo ora? Eh, diciamo che siamo Niels e Ronnie, ok? Uno, due, tre Eh, no, 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 no Io sono Niels Io sono Niels Io sono Ronnie Sì, io sono Niels Sì, cosa? No, sì Non siamo Mario e Jonas Ah, ora dovremmo crederci No, 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 no Mi dispiace Lo so benissimo che era una bugia Voi siete Mario e Jonas E ora vi prenderemo Oh, sì, ok Abbiamo mentito Ma, ma, ma Allora vieni questo Su Ah, ah Prendi questo Ah, ah, ah La mia mano Oh, che male Ma tu sei di pietra Ah, ah Ah, ah, ah Hai paura, eh E ora te la pagherò Me la pagherai Guarda cosa ho alle mie spalle Ti posso pecchiare Ah, ah, ah Oh, ma cosa succede qui? Oh, oh, oh No, 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 no Aiuto Lascia il mio amico Lascialo Aiuto 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 Ho bisogno di aiuto Aiuto Chiappa fantasmi Ah Ho sentito Chiappa fantasmi E aiuto E dove siete? Oh, oh L'ho solo sognato Penso di averlo solo sognato Ma 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 carino Andiamo a vedere La strada La è pulita La non ci sono macchine Oh, oh, oh E là La che succede? Quelle sono Mario e Jonas Ehi, ehi Ehi Dobbiamo essere veloci E andare giù Veloci Ci sono Mario e Jonas E ci sono degli zombie O alieni Oh, non lo so cosa siano Ma comunque mai visti prima Dobbiamo aiutarli Veloci Oh, ma che cos'è quello? Guardate Mario e Jonas Oh, li hanno presi dei mostri Oh no Jonas è in uno scatolo strano E il povero Mario E l'ha fermato con la testa Oh no Dobbiamo reagire Eccovi Non riusciamo più a uscire Oh, Stan Sta lì Aiutateci Voglio uscire E andare a casa Ah, fai Lasciate i nostri amici Prendi questo Lascialo Uno, due, tre Voi i mostri Prendete questo Oh, oh Attenzione Non li fa niente Tali E perché Non riescono Al nostro protone Oh, non riesco a capire Perché Non funziona Deve essere una nuova razza Oh, magari non sono dei mostri Oh, non ne ho la più Pallida idea Però non ce la facciamo Non riusciamo Ah, voi idioti Non siamo dei mostri Siamo degli alieni Cosa? Alieni? Non ne avevo mai visti di alieni Ma, ma, ma Così Com'è possibile? Captain America Captain America Ah, ah Ho scoperto gli alieni Devo attaccare Sì, signor Captain America Sì, attacca Attacca Ehi Lasciale liberi Gli Avengers Sono qui Oh, oh, oh Certo Quando arriviamo Dovete esserci Anche voi Non potete lasciarci Una volta in pace Ma, ma voi Chi siete? Ehi, ehi, ehi Non riesco a capire Ma volete prendere anche noi? Siete cattivi o buoni? Ehi A Chiappofantasmi Sono un Avengers E noi siamo dei buoni E sono qui Per liberarvi Ehi, ragazzi Anche per oggi è tutto Mi raccomando Iscrivetevi al nostro canale E non perdete nessun video Dei nostri portastici amici Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao